Ciao a tutti e bentornati sul canale, finalmente arriva lo speciale che doveva essere per i 2000 iscritti poi trasformatosi in quello per i 3000, i 4000, i 5000. È stata davvero una crescita sorprendente e inaspettata, pensate che faccio video su YouTube da due anni ed ero riuscito ad arrivare a 1000 iscritti. Adesso invece in 7-10 giorni abbiamo superato i 5000 e per ringraziarvi ho pensato ad una sorpresa che scoprirete soltanto alla fine del video. Vi ricordo che se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, seguitemi anche su Instagram e che qui sotto in descrizione trovate i link a Amazon per acquistare i vari libri di Harry Potter. Vi ricordo inoltre che questo canale partecipa al programma di affiliazione a Amazon quindi acquistando tramite i miei link, a voi non cambia sostanzialmente nulla, io ricevo una piccola percentuale e quindi andrete a sostenermi, a sostenere il mio canale. Se lo fate, grazie. Oggi andremo ad unire l'utile al dilettevole. Vi mostrerò quelli che sono i libri che vedete sempre alle mie spalle e allo stesso tempo vi racconterò qual è la storia delle varie edizioni italiane di Harry Potter uscite finora. Tutti i libri che vi andrò a mostrare sono Editi Salani, che è la casa editrice che detiene i diritti italiani di Harry Potter e ci tengo inoltre a dirvi che non tutti i libri che possiedo sono in prima stampa perché per me non è una cosa essenziale. Sia da un punto di vista economico, perché recuperare tutti i libri in prima stampa, soprattutto quelli della prima edizione, è abbastanza dispendioso, e sia perché non è una cosa che mi interessa particolarmente. E non venite a dirmi della Volpe che non riesce a raggiungere l'uva e cose di questo genere perché posso farvi un esempio. La mia copia del Calice di Fuoco è una nona ristampa e per anni ho avuto la possibilità di recuperare una prima stampa anche a prezzi molto vantaggiosi come 20€ ma non l'ho mai fatto perché la prima stampa sarebbe andata a sostituire la mia nona ristampa. Ma questa mia copia è quella che ho letto all'epoca, è quella che mi è stata regalata dai miei genitori e non la voglio sostituire. In fin dei conti cos'è che cambia? Nella mia c'è scritto nona ristampa e nella prima stampa non c'è scritto nulla? Che ci crediate o no, non è una cosa che mi interessa. Se proprio devo pensare ad una prima stampa che vorrei è quella della Pietra Filosofale, ma non per il fatto di essere prima stampa ma per alcune caratteristiche che adesso vi dirò. Io ho già anticipato il primo volume che non possiedo Harry Potter e la Pietra Filosofale in prima stampa uscito nel maggio del 98. Vi lascio un'immagine qui da qualche parte mi ricollego al discorso che stavo facendo poco fa. Quali sono le particolarità di questa prima stampa? Innanzitutto il nome scritto per intero della Rowling, Joanne Rowling e poi la rappresentazione di Harry senza occhiali. Mi piacerebbe davvero tanto avere questa copia in collezione per poter avere le tre versioni uscite della Pietra Filosofale perché questa copertina ha subito poi delle modifiche. Ed infatti le ristampe successive sono state modificate in questo modo. Da notare principalmente l'aggiunta degli occhiali di Harry nell'illustrazione, il cambio del font del titolo che è in questo caso in rosso e la mancanza della numerazione. Perché ancora non si sapeva quanti volumi sarebbero stati, non si sapeva sostanzialmente nulla. Altra cosa da notare se volete recuperare una ristampa bassa, il cartonato del libro è in tela rossa e c'è scritto sempre il nome per intero della Rowling. Tutto quello che vi ho detto fino ad adesso, quindi titolo in rosso, mancanza di numerazione e tela rossa del cartonato del libro, lo ritrovate anche nella Camera dei Segreti uscito ad ottobre del 99 e nel Prigioniero di Azkaban uscito nel marzo del 2000. Come vedete nessuno dei tre ha la numerazione sul dorso. Altre due particolarità che potete notare di queste basse ristampe sono le pagine che si sono mantenute sostanzialmente bianche fino ad oggi perché veniva utilizzata carta nuova, carta vergine, non so come si dice, ed inoltre all'interno di questi tre volumi corvo nero è ancora tradotto come pecora nera e sullo stemma di Hogwarts c'è scritto esserci un ariete e non un corvo. Anche se in realtà anche corvo è sbagliato perché il simbolo di corvo nero è un'aquila. Questa cosa è stata poi corretta nelle ristampe successive. Con l'arrivo poi nel febbraio 2001 del calice di fuoco la copertina subisce un restyling. Viene introdotto innanzitutto il logo ufficiale utilizzato nei film, la numerazione sul dorso e il cartonato del libro non è più in tela rossa ma è colorato con un colore diverso per ogni volume ed è decorato con elementi geometrici. Queste variazioni le subiscono anche i primi tre volumi. Il titolo con il logo del film e la numerazione sul dorso. Il cartonato della pietra filosofale è questo, camera dei segreti e prigioniero di Azkaban. Potete notare inoltre come in questo caso le pagine si siano ingiallite perché da una certa ristampa in poi hanno cominciato ad utilizzare carta riciclata. Ed inoltre ancora nei primi quattro volumi all'interno trovate le illustrazioni del Riglietti. Ce ne sono parecchie all'interno dei primi tre volumi mentre già nel quarto l'illustrazione si trovava solo all'inizio di ogni capitolo. L'anno successivo, l'uscita del calice di fuoco, quindi nel 2002, arrivò un'edizione speciale della pietra filosofale uscita per l'anniversario dei 140 anni della Salani. Purtroppo non possiedono nemmeno questo volume ma lo state vedendo in foto e ringrazio Federico che mi ha gentilmente inviato le foto. È una copia molto rara perché è un'edizione limitata, esistono solo 1500 copie. Le prime 300 sono numerate con numeri romani e le restanti con numeri arabi. Proseguiamo poi con l'uscita dell'Ordine della Fenice nell'ottobre del 2003 e in questo caso il cartonato è questo. Gennaio 2006 Principe Mezzosangue e il cartonato è questo. E concludiamo con l'uscita nel gennaio del 2008 con I doni della morte. Il cartonato in questo caso è questo. Ed esiste solo in questa versione. Moltissimi di voi me l'hanno chiesto sia nei commenti che su Instagram perché volevano recuperare i doni della morte con il cartonato colorato con i motivi geometrici, ma è impossibile perché non esiste. Cosa accadde appena prima dell'uscita dei doni della morte? Salani a fine 2007 pubblicò una edizione speciale, chiamiamola così, della prima edizione che è quella che vedete in questo cofanetto che vi ho mostrato in un recente video, ve lo lascio qui sopra. Questa edizione è detta anche motto di Hogwarts perché i sette volumi vanno a comporre la scritta Draco dormins nunquam titillandus, ossia non stuzzicare il drago che dorme. Uscì sia il cofanetto così come lo vedete e sia sfusi ma con le sovracoperte. Vi ricordo ancora una volta che i doni della morte lo trovate solo con questo cartonato. Della prima edizione trovate anche la versione brossura, quindi con le copertine flessibili che stranamente è un po' più difficile da trovare rispetto a quella rilegata. Non so perché, non l'ho mai presa in considerazione, chissà, magari in futuro lo aggiungerò, non lo so. Adesso fate attenzione perché molti continuano a farmi questa domanda. Tutto quello che vi ho mostrato fino ad adesso che è praticamente la prima edizione sia le ristampe basse che le successive con il cambio della grafica della copertina e sia l'edizione motto di Hogwarts hanno la vecchia traduzione, cioè quella che tutti noi conosciamo perché è stata utilizzata anche nel doppiaggio italiano del film. Tutto quello che verrà adesso rientra nella nuova traduzione, con i vari cambiamenti che ci sono stati, quindi l'utilizzo dei nomi originali della maggior parte dei personaggi, il salice schiaffeggiante, tassofrasso e così via. Quindi, d'ora in avanti, tutto quello che vedrete è nuova traduzione. E questa è stata introdotta nel 2011 con l'uscita dell'edizione Tascabile, che sarebbe sostanzialmente un'edizione economica. Le illustrazioni di quest'edizione sono di Claire Melinsky, approvate dalla stessa Rowling. Vi faccio vedere un attimo ogni volume perché alcuni mi hanno chiesto di mostrarla. Dunque, pietra filosofale con la scacchiera, una delle prove finali, è retro. Camera dei segreti con il basilisco in copertina e quarta di copertina con il salice schiaffeggiante. L'ho chiamato apposta così per ricordarvi che è nuova traduzione, ovviamente è il platano picchiatore. Prigioniero di Azkaban con il Patronus di Henry circondato dai dissennatori e quarta di copertina con un'illustrazione di Azkaban. Calice di fuoco, marchio nero in copertina e retro con la carrozza di Bobaton. Ordine della Fenice, profezia, è retro con il numero 12 di Grimund Place. Copertina del principe mezzosangue, è retro con uno scorcio di Hogwarts. E per finire, i doni della morte, con quella che credo sia la copertina più bella. Ci sono alcune lapidi del cimitero di Godric Solo, in particolare qui in primo piano, quella di Gnotus Peverell con il simbolo dei doni della morte. E retro con la spada di Grifondoro sul fondo del lago ghiacciato. Adesso dobbiamo fare un salto di due anni, dal 2011 passiamo al 2013. Esce una nuova edizione, questa volta per festeggiare l'anniversario dei 15 anni dall'uscita della pietra filosofale. E arriva un'edizione che è considerata da molti la più bella uscita finora, la cosiddetta edizione Castello. I sette libri vanno a comporre l'immagine di Hogwarts. Questa uscì sia con i sette libri sfusi che in cofanetto completo. Le illustrazioni sono di Kazu Kibuishi e meritano davvero tanto, infatti adesso vado a mostrarvele una per una. Si trovano due illustrazioni diverse, in copertina e in quarta di copertina. La pietra filosofale con Hagrid e Harry a diagonale, guardate che bella. E sul retro Harry davanti allo specchio delle E-Marb. Piccola particolarità di questa edizione, nelle illustrazioni sul retro Harry è sempre di spalle. Camera dei segreti con l'arrivo alla Tana e Harry nella camera dei segreti. Prigioniero di Azkaban con l'evocazione del Patronus. E sul retro la classe che ascolta Lupin durante la lezione sul molliccio. Calici di Fuoco con l'illustrazione della prima prova, Harry contro Lungaro Spinato. E sul retro ne abbiamo un'altra. Ordine della Fenice in volo sui Testral verso Londra. E in quarta di copertina una delle stanze dell'ufficio Misteri. Prigioniero Mezzosangue, quest'altra è bellissima, Harry con Silente sullo scoglio prima di entrare nella caverna di Voldemort. E qui sul retro Harry sempre di spalle nell'ufficio di Silente con il pensatoio. Doni della morte con il magico trio Harry, Ron e Hermione sul dorso del drago col quale fuggono dalla Gringot. E ovviamente sul retro lo scontro finale tra Harry e Voldemort. Questa è davvero una bellissima edizione. Se riuscite recuperatela. Anche sfusi l'effetto in libreria con o senza cofanetto è il medesimo. Potete notarlo. Non dobbiamo fare un salto di anni ma semplicemente l'anno successivo nel 2014 arriva quest'altra edizione con le copertine di Invalanen. Spero di averla pronunciata bene. Si dice che questa sia l'edizione preferita dalla Rolling o almeno per quanto riguarda le copertine. A me sinceramente non fa impazzire. Particolarità di questa è che Harry non viene mai rappresentato per intero. Vediamo solo pezzi di Harry come state notando nella pietra filosofale. Camera dei segreti. Prigioniero di Azkaban. Questa volta in groppa a Fierobecco c'è Sirius e non Harry Hermione come viene ritratta di solito questa illustrazione. Calici di fuoco. Harry negli abissi del lago Nero. Ordine della Fenice con il classico volo dei Testral su Londra. Principe Mezzosangue. La scalinata della torre di astronomia. E per concludere con quest'altra edizione del 2014, I doni della morte. Questa credo che sia l'illustrazione che mi piace di meno. Dal 2014 passiamo al 2015 perché arriva questa meraviglia. Harry Potter e la pietra filosofale illustrato da Jim Kaye. Se ancora non l'avete fatto recuperate questa edizione perché è veramente fantastica. Ne sono usciti solo quattro fino a questo momento quindi avete tutto il tempo per recuperarla con calma. Questo è il dorso e questo è il retro con la continuazione dell'illustrazione in copertina. Fantastica. Nel 2016 arriva l'edizione illustrata della Camera dei segreti. Dorso e continuazione dell'illustrazione. E nel 2017 il prigioniero di Azkaban. Anche qui l'illustrazione che prosegue sul retro. Con le versioni illustrate ci fermiamo un attimo perché nel 2018 arrivano ben due nuove edizioni per festeggiare i 20 anni dall'uscita della pietra filosofale. Arriva sia questo cofanetto, la versione bianca e nera con le copertine di Brian Selsnick che trovate in quest'altro video qui sopra. L'ho fatto vedere per bene. Anche qui trovate sia i libri sfusi che il cofanetto. Questo attualmente ancora in vendita in libreria e su Amazon. Link qui sotto. Oltre a questo arriva anche quest'altra edizione che presenta come vedete il bollino dei 20 anni di magia. Come avete potuto notare le copertine sono quelle della prima edizione di Serena Riglietti. Attenzione però perché a differenza della prima edizione oltre ad avere la nuova traduzione non ci sono nemmeno le illustrazioni interne. Inutile che ve li mostro tutti perché le illustrazioni sono praticamente quelle della prima edizione solo che i libri hanno semplicemente il cartonato rigido, non c'è sovracoperta. Quindi ricordatevi 2018, questa edizione e quest'altra edizione. Sempre per i 20 anni. Passiamo al 2019 perché arriva la versione illustrata del calice di fuoco. Inizia a diventare pesantuccia la questione. Qui a differenza dei primi tre ci sono meno illustrazioni ma credo che sia dovuto principalmente alla mole diversa del libro rispetto ai primi tre. Un conto è illustrare un tot di pagine, un conto è illustrarne il doppio. Sempre nello stesso anno arrivano anche i primi due volumi in brossura dell'edizione illustrata da Jim Kaye, Pietra Filosofale e Camera dei Segreti. Anche di questi trovate il video qui sopra. Come dico sempre, secondo me i rilegati sono più da collezione. Leggerli è veramente scomodo perché sono grandi e sono pesanti. Mentre questi altri sono ottimi anche per la lettura. Tranquilli abbiamo quasi concluso, sono rimasto anch'io senza voce. Arriviamo al 2020, l'ultima edizione uscita che è questa qui con le illustrazioni di Johnny Dadol. Sì, non mi stava venendo subito il nome. Anche di quest'edizione trovate il video qui sopra, vi ho mostrato tutto per bene, le illustrazioni e tutto. Una piccola cosa che però voglio ripetere, qui per la prima volta trovate delle cose che non ci sono in tutte le altre edizioni che vi ho mostrato finora. Ossia la mappa di Hogwarts, alcune piccole curiosità sui fondatori. Queste due cose sono identiche per tutti e sette i volumi. L'altra novità aggiunta in quest'edizione è il glossario. Si passa da un glossario di appena 5 pagine nella pietra filosofale ad un glossario di oltre 20 pagine nei doni della morte. Ed è per questo che quest'edizione secondo me è la migliore per chi vuole avvicinarsi al mondo di Harry Potter per la prima volta. E abbiamo concluso qui, vi ho mostrato tutte le edizioni in mio possesso, abbiamo fatto un po' di storia delle varie edizioni italiane uscite finora. E adesso arriva la sorpresa. Per ringraziarvi del supporto che mi avete dato ho deciso di organizzare un piccolo giveaway mettendo in palio questa versione di Harry Potter e la pietra filosofale in greco antico. Partecipare è semplicissimo, è totalmente gratuito, ve lo spedirò io stesso. Dovete semplicemente essere iscritti al canale, seguirmi su Instagram se volete, questo non è obbligatorio. E lasciare un commento qui sotto scrivendo qual è la vostra edizione preferita che vi ho mostrato oggi o quale vorresti o quella che avete voi, insomma quello che volete con l'hashtag partecipo. Il giveaway scadrà domenica 3 maggio a mezzanotte, quindi avete tempo fino a sabato notte per partecipare. E l'estrazione avverrà poi domenica mattina su comment picker, quindi è importante che inseriate l'hashtag partecipo. Piccola cosa che vi chiedo, fidatevi di me, perché l'estrazione non avverrà in live, ma probabilmente registrerò il video e lo posterò su Instagram. Vi ripeto, fidatevi di me perché sono una persona onesta nella vita di tutti i giorni, non vedo perché dovrei fare il disonesto nel mio canale YouTube. Sarò assolutamente super partes, non vedo perché dovrei preferire uno di voi piuttosto che un altro, quindi andate tranquilli da questo punto di vista. Ultima cosa, il giveaway è aperto a tutti, quindi anche ai minorenni. Unico appunto, se avvincere un minorenne deve necessariamente farmi inviare una mail da un genitore o da un tutore e darmi l'autorizzazione a spedirvi il libro e ovviamente trasmettermi i dati per la spedizione. E ultima cosa, partecipate se siete veramente interessati a riceverlo. Tengo molto i miei libri, quindi vorrei che finisse nelle mani di qualcuno che lo vuole davvero. Dunque, ricapitolando per partecipare, iscrizione al canale, commento al video qui sotto con l'hashtag partecipo, ovviamente non scrivete solo partecipo, commentate insomma, mettete qual è la vostra edizione preferita, quella che avete o quello che volete. Il vincitore domenica 3 maggio verrà annunciato qui sotto al video, scriverò un commento che metterò in primo piano. Non mi resta che dirvi, buona fortuna a tutti, mi raccomando non utilizzate Felix Felicis, non è valido. Il video termina qui, vi ringrazio ancora tantissimo per il supporto, se avete domande, curiosità, dubbi potete scrivermi sotto nei commenti o in direct su Instagram. Lasciate tanti pollicioni in su a questo video, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, seguitemi anche su Instagram se volete e vi do appuntamento come sempre al prossimo video. Ciao! Ciao!